Domani la Salaritana ospiterà il Bari in un arechi da almeno 18.000 spettatori. All'appello mancherà Franco Togna che non ha ancora smaltito l'infortunio rimediato contro il Cesena. Dopo la sosta Martuscello spera di poter avere Reina Delaide, Torregrossa e lo stesso Togna mentre valuterà fino all'ultimo le condizioni di Sepe. Il capitano dovrebbe essere avvicendato tra i pali da Fiorillo che torna disponibile dopo la squalifica. In difesa potrebbe toccare Angio sulla corsia sinistra, in mediana Maggiore riprenderà il suo posto tra i titolari mentre Taglio e Russici andranno in panchina. In avanti toccherà Vodarcic agire da punta centrale con verde e braffa a supporto. La chiave della partita potrebbe essere proprio la capacità della Salaritana di riempire la trequartia dell'area di rigore barise senza però offrire il fianco alle ripartenze della scuola di Longo che ha in lasagna e sibili gli attaccanti più adatti a recitare questo copione. Il Bari non perde da dieci giornate, la Sertana in casa non vince da fine agosto ma nel Longo e nel Martuscello possono accontentarsi del pareggio in partenza. C'è attesa sulle rispettive sponde per vedere se Granato e Galletti siano pronti a compiere quel passo in avanti per alzare non solo e non tanto l'asticella delle ambizioni ma prima di tutto per scrollarsi dosso le squadre che sono invischiate nella zona medio-bassa di una classifica che dal quarto posto in giù è ancora corta ma che col passare delle giornate comincerà a delinearsi e non sarà certo tenera con chi avrà lasciato troppe occasioni rimpianti sul terreno.